Però lo voglio dire ancora un'altra volta, il Movimento 5 Stelle sta facendo questa azione non per decidere esclusivamente su un appuntamento elettorale, perché riconosciamo che c'è un momento di difficoltà, riconosciamo che c'è un momento in cui dopo 18 mesi al governo e dopo 10 anni nelle istituzioni, dai primi consigli comunali ad oggi, abbiamo bisogno di definire una nuova carta dei valori, ce l'eravamo già detti, dobbiamo definire una nuova organizzazione del Movimento, dobbiamo definire dei nuovi obiettivi ed è normale che per fare questo devi dedicare tutte le energie che hai a quell'obiettivo, altrimenti non ci riesci. Ci stavamo provando, pensate, per creare il team del futuro ai facilitatori regionali, dovevano essere pronti entro settembre, poi è caduto il governo, abbiamo dovuto creare il nuovo governo e è slittato in avanti. Tutte queste cose ritardano un tema che sono due anni che ce lo diciamo, dobbiamo sistemare un po' di cose nel Movimento e ci diciamo sempre sì ma dopo queste elezioni, sì ma dopo queste elezioni, perché poi siamo una forza politica che non prende fondi pubblici, non ha sedi, non ha strutture territoriali, quando c'è una campagna elettorale ci direzioniamo ovviamente su quello. Ovviamente tutti quelli che sono eletti continuano a fare il loro dovere, maggioranza o opposizione.